Altra new entry degli O2Days Italia, ci provano sempre a rubarmi il Giraslide, Only Office è anche sponsor di O2Days Italia per cui anche un ringraziamento da questo punto di vista e lui ci parla oggi del sviluppo che hanno fatto legato al connettore con O2 e Only Office una cosa molto interessante, buon lavoro Proprio a richiesta di Andrea Non sbagliamo il retroscena però Innanzitutto vi do un benvenuto, grazie del vostro benvenuto caloroso sono un po' preoccupato di fare parte per la prima volta dei community di O2 ma vabbè, iniziamo Grazie Mi chiamo Alexei, faccio parte del team di Only Office e oggi sono qui a raccontarvi come un'azienda di qualsiasi settore e di qualsiasi dimensione può ottimizzare il proprio flusso documentale all'interno dell'ambiente O2 in modo sicuro, collaborativo e veloce La risorsa principale di qualsiasi azienda sono le persone che la compongono e quindi bisogna dare l'opportunità a queste persone di lavorare e collaborare in una maniera efficace anche con i documenti quindi serve un lavoro con documenti stabile la gestione e la condivisione dei contenuti interrotta e veloce Only Office ha una soluzione che soddisfa queste esigenze e si chiama Only Office Docs Praticamente Only Office Docs è un pacchetto d'ufficio che consiste da vari editor di vari formati la nostra soluzione è online, open source, sicura, veloce, stabile e avanzata Consiste da cinque vari editor editor di testo, fogli di calcolo, presentazioni, moduli compilabili e anche di recente abbiamo fatto il nostro pdf editor quindi avete tutto un pochetto all'interno dell'unica soluzione i nostri due valori principali sono la collaborazione e la sicurezza dei vostri dati Come ho già detto la nostra soluzione consiste di questi cinque editor che vi garantiscono la massima compatibilità con i formati di Microsoft la sicurezza avanzata e le possibilità di collaborazione molto efficace all'interno di vostro team e anche all'esterno quindi con i vostri clienti e collaboratori esterni In termini di lavoro con i documenti di testo voi avrete l'interfaccia familiare e tutto un set di strumenti per la modifica e formatazione di documenti Inoltre i nostri editor prevedono la possibilità di estendere le capacità di lavoro con dei plugin esterni di cui vi parlerò un po' più tardi in dettaglio Fogli di calcolo per navigazione facile tra tutti i dati Noi abbiamo oltre 400 di formule e funzioni quindi avete tutto un completo di tool necessario per il lavoro con questo tipo di documenti Ovviamente le presentazioni, moduli compilabili Qua voglio fermarmi un attimo perché magari un concetto non molto chiaro perché non è offerto da tanti competitor del mercato Quindi cos'è questo editor? Vi permette di creare delle forme con testo chiuso quindi un documento chiuso dove gli utenti possono interagire soltanto con i campi predefiniti da voi E' anche un visualizzatore, lettore e converter di file PDF Adesso voi potete interagire con il testo in file PDF evidenziarlo, lasciare i commenti e anche dipingere se dovete fare qualche nota In termini di collaborazione Only Office vi offre tante capacità molto flessibili Si parte da diritti d'accesso che ci sono a vostra disposizione quindi voi potete assegnare i vari ruoli ai vostri colleghi collaboratori sia interni che esterni Vi offre due modalità di co-editing Quella veloce quando voi vedete tutte le modifiche che stanno apportando i vostri colleghi Oppure quella strict quando i vostri colleghi non vedranno le modifiche che sono state apportate finché uno che apporta le modifiche non salva il documento e quindi non dà l'accesso a queste modifiche ai colleghi Avete la cronologia delle versioni revisione dei documenti confronto dei documenti e anche un set di tool per la comunicazione all'interno di editor di documenti ovvero avrete una chat interna oppure si potrà integrare la chat di Telegram all'interno sempre della pagina di editor di documenti oltre al plugin del Telegram ci sono anche dei plugin che vi permettono di fare le chiamate del documento I nostri editor sopportano i formati di Microsoft ovvero non sopportano però noi lavoriamo come il formato di base usiamo lo stesso usato da Microsoft Office quindi tutti i documenti che sono stati creati con gli editor di Microsoft saranno aperti correttamente nei nostri editor qua voi vedete la compatibilità e le capacità di apertura di documenti di questi formati e vi avevo già accinato la raccolta di plugin che noi abbiamo per estendere le capacità di nostri editor AI, AI, AI adesso non si fa nessuna presentazione senza accenare chat GPT allora lo sfrutto anch'io noi abbiamo sviluppato la nostra integrazione con chat GPT adesso è possibile usarlo proprio all'interno dei documenti quindi adesso se voi dovete preparare qualche report per i vostri colleghi non dovrete nemmeno tenere un'altra finestra aperta con chat GPT lo potete fare direttamente dalla pagina di editor con già delle possibilità integrate all'interno di questo plugin quindi basta evidenziare il testo e voi avrete una lista di funzioni che può fare il bot ad esempio fare un riassunto o trovare le parole chiavi o tradurre questo testo o rielaborare questo testo eccetera questo era per quanto riguarda i documenti di testo i nostri sviluppatori hanno fatto questa integrazione anche per i fori di calcolo e quindi ci sono le macro che usano i dati di OpenAI e quindi si può compilare le celle con questi dati si può oppure chiedere di fare un'analisi di dati che ci sono già presenti in documento il plugin di OCR vi permette di lavorare con delle immagini con testo ad esempio se voi avete un screenshot o una fotografia di un libro o una pagina di qualsiasi cosa e voi dovete avere questi dati in formato digitale si può usare questo plugin per far leggere l'immagine e poi inserire come il testo all'interno del documento il plugin di input vocale per aumentare l'accessibilità dei nostri editor plugin di Pixabay che vi dà accesso alla biblioteca di immagini royalty free questi sono altri plugin che troverete nei nostri plugin manager se volete poi avvicinatevi al nostro stand vi faccio vedere tutto di persona in termini di sicurezza OnlyOffice vi dà un set di strumenti che vi permette di proteggere i vostri dati e i vostri documenti sia dei vostri colleghi che da accesso esterno quindi avete tutto il controllo sui vostri documenti c'è possibilità di protezione con password di flessibili diritti d'accesso quelli che avevo già accinato filigrane limitazione di copia, stampa oppure download crittografia tutti i dati che voi inviate sono crittografati con HTTPS in transito oppure crittografia end to end quando voi lavorate con i vostri colleghi su un documento OnlyOffice è disponibile in vari formati ovvero può essere installato sul proprio server come soluzione on premise può essere installato su un data center che voi scegliete oppure può essere fornito come servizio cloud offerto proprio dalla nostra azienda dalla nostra parte OnlyOffice è una soluzione integrabile con i vari servizi i vari gestionali crm, erp, eccetera qua voi vedete alcuni esempi delle nostre integrazioni e appunto noi siamo oggi qua perché di recente noi abbiamo fatto la nostra integrazione con Odoo il che dà accesso a tutte le funzionalità nominate sopra proprio all'interno del vostro del vostro ambiente Odoo ovvero avrete più funzionalità di lavoro con i vostri documenti all'interno di ogni modulo in cui ne avete bisogno si potrà collaborare con i vostri colleghi su vari formati di file su vari tipi di file con le funzionalità estese AI sempre sarà disponibile anche in Odoo altrimenti non l'avrei nemmeno nominato oggi quindi lo faccio per la seconda volta perché ormai è molto importante altrimenti la presentazione non è buona questo è il creatore di moduli compilabili di forme che avevo nominato prima il che è stato detto a noi dagli utenti di Odoo che è dispensabile per questo sistema perché vi permette di creare dei documenti delle forme di fatture o qualsiasi altro tipo di di burocrazia in maniera standardizzata per rendere il flusso di lavoro automatico evitare gli errori umani aggiungere vari tipi di campi così da poter gestire di più il lavoro esterno con questi documenti e questo modulo vi permette di scaricare il documento creato in formato pdf e inviarlo o ai vostri colleghi o ai collaboratori esterni o ai vostri clienti anche se loro non hanno only office potranno comunque compilare questi file con qualsiasi lettore di pdf quindi voi non non sarete isolati da con il nostro sistema editor di presentazione sempre disponibile in Odoo modifica i contratti nella sezione di vendite vi permette di fare i vari tipi di documenti come preventivi ordini fatture eccetera eccetera tutte le cose abbastanza dove nella chat di Odoo voi con only office riuscite a inviare i documenti e aprirli in chat senza scaricarli on premise e aprirli con con altre applicazioni la nostra questa non è però la la presentazione aggiornata credo di sì la mia collega doveva inviare tutto ieri ok vabbè in realtà noi oggi siamo qua perché abbiamo sviluppato un un nuovo plugin per per Odoo da only office e il plugin che ci ha chiesto di fare a Puglia software ancora un anno fa quando noi avevamo fatto la versione manco prima versione zero punto qualcosa di integrazione con Odoo ci siamo messi in contatto con con Puglia software appunto per cercare di stabilire un partnership e allora ci è stato detto che in Odoo è molto richiesto e sarebbe molto bello è figo di fare integrazione con i nostri moduli in maniera tale che si potranno aggiungere dei campi da compilare creati già una volta in altri in altre sezioni di Odoo quindi adesso voi avrete tutto un nuovo modulo che si chiama only office template purtroppo non è la presentazione della giornata quindi non ve lo posso far vedere qua però così vi vi faccio venire al nostro stand così vi faccio vedere tutto di persona in realtà io sto mentendo di aver inviato i nuovi i nuovi slide allora continuo praticamente adesso voi avrete tutto un nuovo modulo che si chiama un office template una volta aperto questo modulo si potrà creare i moduli i moduli in varie sezioni di Odoo praticamente voi avrete un menu un drop menu dove potete scegliere il modulo employee ad esempio e sarà creata una forma che poi una volta aperta voi avrete un tool di strumenti questa cosa a sinistra sì perché io sono incapace a capire dove la parte destra e sinistra avrete un menu a sinistra con la possibilità di inserire tutti i campi che sono già offerti da Odoo o che sono stati aggiunti da voi direttamente in questo modulo quindi voi non dovrete creare un modulo da capo o creare un campo da capo e dargli delle proprietà però sarà fatto tutto in automatico il che vi permette di lavorare in maniera efficace veloce e anche evitare gli errori perché sarà tutto standardizzato sarà tutto disponibile in questo redattore che voi avete già fatto nel passato ancora una volta magari è abbastanza difficile e confondente spiegarlo così a parole senza farvelo vedere quindi adesso al posto di fare coffee break vi invito al nostro stand vi servirò caffè io mentre la mia collega vi farò vedere stiamo mettendo le slide aggiornate le abbiamo recuperate ok è il bello della diretta però devo dire che sei bravo a intrattenere stai cavando egregiamente da piccolo volevo fare attore però poi avevo troppi impegni in scuola e quindi ho abbandonato i corsi c'è un attore in ognuno di noi ok ci siamo ok allora hanno rotto la mia pubblicità che ho fatto prima ecco ecco qua il modulo only office templates in interfaccia di Odoo praticamente vedete questo menu qua che mette a disposizione tutti i campi che sono stati creati in precedenza o da Odoo stesso o da voi basta poi scegliere il posto nel documento in cui voi volete inserire il campo per il momento non funziona come drag and drop però si mette lì dove c'è il cursore quindi mettete il cursore nel documento nella posizione in cui volete inserire questo campo cliccate su campo che voi volete inserire e avrete questi campi già lì che praticamente sono i campi con cui potranno interagire o i vostri colleghi o i vostri clienti o i partner o qualsiasi persona anche al di fuori sia dell'ambiente Odoo che di editor di only office perché verrà salvato in pdf là in su vedete il bottone save as pdf per poi appunto poter distribuire questo file per il lavoro e raccogliere tutti i dati necessari è disponibile per ora con tre sezioni di Odoo quindi quella di sì quella di sales quella di employees e quella di quotazioni ecco sarà a breve noi aggiungeremo le sezioni di purchase project and sign ormai questa integrazione non è ancora uscita la stiamo ancora sviluppando e noi appunto avevamo già chiesto il primo feedback di Apulia software ci hanno dato una mano Andrea ha visto tutto in chiamata però non le ho dato ancora a giocare perché non non l'ho meritato ancora le nostre soluzioni sono usate da più di 10 milioni di utenti di cui noi sappiamo perché poi essendo essendo un software open source noi non sappiamo quanto è grande la nostra la nostra community quella parte non attiva perché intendo mi capite sì che c'è la parte attiva di di qualsiasi soft open source è la parte quella che usa non si fa nemmeno sentire o vedere noi usati da da varie dimensioni dalle aziende di varie dimensioni di vari settori come finanza scienza ricerca pubblica amministrazione e tant'altro qua voi vedete alcune testimonianze di nostri clienti perché only office non fa soltanto il servizio da integrare quello offerto da noi però noi offriamo anche le licenze per i developer che vogliono avere nel proprio software il modulo di gestione documentale e di lavoro con documenti anche in white table quindi ecco qua ci sono delle testimonianze dei nostri clienti collaboratori e partner qua sono vabbè solite cose che siamo bravi abbiamo vinto abbiamo vinto tante cose senz'altro qua il feedback che vi fa vedere che siamo sempre molto bravi only office oggi è un'azienda che consiste da più di 220 utenti che si trovano in oltre di 30 paesi del mondo abbiamo uffici qua non è indicato in 7-8 paesi non mi ricordo più insomma siamo sempre grandi bravi stabili e bravi ancora ecco sono i nostri uffici quanti sono 7 7 paesi e continuiamo sempre a crescere vabbè io non ho sforato nemmeno il mio tempo quindi un applauso per questo precisissimo perfetto bravo grazie per l'intervento devo dire che l'anno prossimo devi venire così per facciamo un duetto ok ci mettiamo in trattenzione allora l'anno prossimo voi pagate me ok di questo ne dobbiamo parlare ci abbiamo una domanda due tre mille c'era Simone vabbè finché non sentite la domanda vi anticipo che io non sono tecnico quindi se le domande sono troppo tecniche io me ne andrò senza senza nemmeno provarci no io avevo una domanda riguardo il discorso si apre tramite una web app o viene aperto tramite un'altra scheda del browser e quindi la possibilità di tramite web app proprio nella stessa pagina di Odoo quindi non sarà aperta nemmeno un'altra scheda nel browser proprio la stessa pagina e il documento sarà inserito proprio embedded in pagina ok immagino che sia funzionale sia su qualsiasi browser e non solo ok e l'ultima domanda era riguardo al discorso dei template funzione molto interessante e volevo sapere se si potevano anche creare dei campi calcolati cioè abbiamo la possibilità magari di prelevare dei campi già che Odoo mette a disposizione ma magari farli anche un calcolo esempio prezzo netto allo sconto eccetera eccetera ok buona giornata bella domanda la invito di venire dal nostro stand così me la segno dovrebbe essere semplicemente il fetch del valore del campo e c'è la possibilità invece di fare la parte ricorsiva sul dettaglio il mio collega quello più intelligente con cui hai parlato ti avevo fatto capire se è possibile fare queste cose o no ah ok allora allora sì è possibile il fetch del campo è la ricorsività siamo pari sì noi siamo partner insomma è il suo interesse eccomi ciao grazie per la presentazione molto interessante domanda open source quanto che differenza c'è fra il modello enterprise cioè la versione enterprise e la versione community l'unica differenza è la quantità di connessioni contemporanee perché nella nella versione community hai fino a 20 connessioni contemporanee e con enterprise parti con 50 connessioni contemporanee fino all'infinito noi veramente il test più avanzato che abbiamo fatto ha dimostrato che riusciamo a gestire oltre 100.000 utenti nello stesso tempo abbiamo fatto in maniera clusterizzata con un partner tedesco per una regione di Germania per copertura di tutte le scuole questo per la versione cloud chiaramente un premise no no questo è un premise cloud invece c'è soltanto cloud non c'è community cloud è sempre offerta gestita da noi è sempre sopportato anche a livello tecnico e sì la seconda differenza ovviamente il support che nella versione di enterprise noi forniamo support ok parlavi di templating lì ho visto puoi inserire dei campi eccetera sì però per quanto riguarda la generazione dinamica del contenuto quindi non so i loop senza scendere nel tecnico cioè è una cosa che può sostituire il rendering dei report in Odoo o no? magari perché io in realtà non sono molto bravo con Airpd o Odoo in generale perché siccome noi lavoriamo con tanti altri sistemi quindi magari Andrea ne capisci meglio di me ci provo a capire io mi vergogno quando diciamo siamo entrati in contatto mi è venuta la nostalgia di Airu Reports sentendolo parlare nostalgia insomma a te ti è venuta? per cui insomma sostanzialmente c'era la necessità di fornire un sistema che potesse generare dinamicamente contrattualistica per un cliente e quindi parlando con loro loro hanno detto sì siamo disponibili a fare questo tipo di implementazione perché all'inizio c'era solo l'editing nel chatter di Odoo però io ho detto partiamo da un model tiriamo fuori i dati dal model e poi compiliamo il documento perché poi magari il documento lo dai al legale a un amministrativo oppure ce l'hai già un documento che vai a riutilizzare pensiamo a un contratto per esempio lo metti lì ci metti il segno posto e tiri fuori l'informazione però attualmente fa il fetch del dato e la possibilità di fare il ciclo sul dettaglio quindi in realtà è un template in statico quindi puoi solo inserire i canali però loro ci stanno lavorando anche in maniera abbastanza un'ultima domanda se posso headless rendering del pdf allora tira fuori il documento dopodiché te lo devi generare in pdf non so se c'è anche in programma la possibilità di fare automaticamente il pdf chiamare un servizio piuttosto che lanciare un comando e mi genera un pdf tieni fuori il pdf generato in pratica era una delle cose che dovevano proprio quando scegli di salvare il file scegli pdf ciao due domande spero semplici semplici non è ancora stato rilasciato quanto è previsto il rilascio giugno più o meno però ci possono essere dei ritardi e la seconda su che versioni di odoo nel senso sulla 16 17 credo credo che almeno saranno sopportate quelle ultime non so a partire da quale bisogna bisogna specificare l'aspetto interessante però è che lavora sia sulla versione community che sulla versione enterprise se non erro 16 17 era era incluso ah ok esatto confermo anche il signore aveva una domanda ma non lo devi stimolare lui no lascialo stare ho visto che c'è il linguaggio di scripting e che avete indicato javascript no io me ne va c'è anche python o c'è no questo tecnicamente non ha allora si avvicini al nostro stand scriviamo ai miei colleghi se sono simpatici rispondono subito e a proposito di stand direi che è arrivato il momento di fare un coffee break prima è il momento di venire al nostro stand si può avvicinarsi a me personalmente venite col caffè